Questa mattina molti cittadini hanno manifestato per la pineta di Procoglio. A Procoglio dal 2 settembre è iniziato il taglio degli alberi per la messa in sicurezza antincendio. Va detto però che per la nostra regione l'inizio della stagione silviana, ovvero la stagione in cui è consentito tagliare gli alberi, parte dal 15 ottobre. E termina il 15 aprile. Vi ho anche detto che dai documenti in mio possesso forniti dai cittadini, gli operatori possono lavorare e rimanere nel cantiere per 8 ore consecutive. Ma su nessun nulla osta è presente la possibilità di lavorare nei giorni festivi. Dalle immagini presenti sulla pagina Facebook, nata per salvaguardare la riserva naturale di Procoglio, si osserva che la distanza minima tra gli alberi superstiti non è stata rispettata, rispetto a quanto stabilito anche dal regolamento regionale. Inoltre sono stati aperti altri barchi rispetto a quelli che dovevano essere solamente allargati e fatta una manutenzione per garantire l'accesso dei mezzi pesanti se si fosse verificato un incendio. Anche per questo i carabinieri forestali hanno inviato un'informativa alla Procura. Si evince anche dalle foto di numerosi cittadini che gli operatori non rispettano le IDPA, cioè ovvero non hanno un casco o guanti per garantire la propria incolumità. Bisogna dire però che una gestione sostenibile del bosco anche in una riserva naturale prevede il taglio degli alberi per garantire l'incolumità pubblica e privata. Ovviamente però quello che è successo a Procoglio non è assolutamente una gestione sostenibile del bosco per l'apertura di altri barchi, per il fatto che le distanze minime tra gli alberi superstiti non sono state rispettate e non resta a rispettare nemmeno la stagione silviana di apertura appunto del taglio degli alberi.